Shalom fratelli e sorelle in Cristo. In pochi versetti Matteo descrive la sua conversione e chiamata. Per alcuni il giorno della chiamata coincide con il giorno della conversione di vita. Gesù vede Matteo seduto al banco delle imposte e subito gli dice di seguirlo. All'istante Matteo lascia quello che stava facendo, si alza e lo segue. Matteo porta Gesù e i suoi discepoli in casa sua. È straordinario ciò che avvenne in quella casa. La tavola si riempì di peccatori colpiti da Gesù, commossi dalla sua bontà inclusiva. Come mai Gesù è tanto duro con gli scrivi e farisei, mentre è così clemente con i peccatori? Forse ci lascia perplessi? Bisogna peccare per avere l'attenzione di Gesù? Finché cercheremo la verità, Gesù si farà trovare. Quei peccatori in fondo cercavano qualcosa o qualcuno che non avevano ancora trovato, mentre la maggioranza dei farisei erano già troppo pieni delle proprie certezze da non aprirsi alla providenza di Dio. Ancora oggi la missione di Gesù consiste nel sollevare vite dal fango, nel pulirle, nel restituire dignità, nell'introdurre nella comunione con il Padre e con i fratelli e sorelle. Gesù continua questa missione nei tanti sacerdoti che sceglie, attraverso l'ascolto riflessivo e l'assoluzione dei peccati, nell'accompagnamento spirituale. Perciò Gesù continua a chiederci di trovare i malati, di occuparci di loro, perché a noi è dato il potere di sanare. E' proprio continuando la missione di Gesù che noi sacerdoti comprendiamo la misericordia e iniziamo a praticarla. Preghiamo Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua è nostra madre. Amen.